La prima cosa, la tachipirina per le ui, perché hanno detto che le febri non possiamo lasciarlo con la prima cosa. Alla tessera? Io non posso dare farci per una persona che non è segnata. Quando ho iniziato questo viaggio tra i poveri in Italia, una delle domande a cui volevo rispondere, il povero si nasconde o no? Il povero dell'età medievale, dell'età barocca, non si nasconde. È la società borghese in cui il successo è obbligatorio che lo costringe a celarsi. Perché vi interessa fare queste cose? Io di mestiere faccio il giornalista. Io credo che bisogna che ci sia qualcuno che va lì a raccontarle queste cose qua. Ho potuto immaginarmi cosa farei io se mettiamo domani mattina, io restassi per qualche misura a privo di qualsiasi reddito o di un posto dove andare a dormire. Sai che non ci sono riuscito? Perché fino a quando uno non c'è dentro, non puoi fare della povertà un'ipotesi.